Ciao bellini, ciao belline, bentornati o benvenuti sul mio canale Oggi voglio vloggare un pochino con voi e portarvi con me nel mio centro estetico di fiducia Estetica al naturale della mia carissima amica Margherita Che si è specializzata nei trattamenti viso per tutte le pelli Oggi sono stata invitata a provare un nuovissimo trattamento come cliente affezionata Ed è a base di vitamina C Ma vi racconterà poi più tardi la mia amica che è di certo più qualificata di me Bene, è arrivata Bryson a prendermi E mi accompagnerà anche lei al centro estetico di Margherita I am without makeup Perché ovviamente devo fare un trattamento viso e quindi non avrebbe avuto molto senso truccarmi Comunque direi che ora entriamo Ciao Ciao Ben arrivata Grazie Ci accomodiamo Prego Grazie 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 e quindi iniziare al meglio un trattamento estetico professionale. Allora, poi, struccante bifasico, la parte in olio, diciamo, è olio di macadamia, quindi andiamo sempre su prodotti più possibili e naturali, per non aggredire troppo la pelle. Poi, tonico, alla mela, se senti la profumazione, va a ristabilire il pH cutaneo, è stato, diciamo, alterato dalla fase di detersione con lo struccante. Ok, adesso procediamo con l'applicazione di questa crema esfoliante, con dei microgrammi che vanno a preparare la pelle per ricevere il principio attivo della vitamina C. La metto tipo maschera e poi la lavoro a mano, e perché ha la doppiazione, praticamente fa sia da peeling chimico, quindi agisce da sola, e la utilizzo anche come peeling meccanico, cioè lo vado a lavorare io. Senti anche che è abbastanza delicato, i microgrammi non sono troppo forti, troppo duri. Da quanto tempo è che hai aperto adesso il centro? Allora, noi abbiamo aperto a febbraio 2016, quindi sono quasi due anni. E' fico, è bello lavorare con il proprio metodo, scegliere i propri prodotti, fare le ricerche sui prodotti migliori che seguono la tua filosofia. Non ci è voluto poco, però fino all'altro volta. E mi trovo bene con loro sia come prodotti che come etica professionale che hanno molto. E' una casa cosmetica italiana, di Bergamo, e hanno il centro ricerche a Ginevra, e... E' troppo. Allora, la casa si chiama Istomer, e il nome viene dalle cellule staminali istomeriche. E sono cellule staminali vegetali, e praticamente sono la base di qualsiasi prodotto di Istomer. Ah, è fantastico. Sì, sì, è bellissimo. Tutta la loro filosofia, seguo proprio anche la nostra, tutto al naturale appunto. Ah, bellissimo. Fiala, vitamina C. Sì, perché praticamente questa casa cosmetica nasce prima come casa farmaceutica. E poi hanno fatto la specializzazione nelle medica professionali. Allora, questa è la fiala, diciamo che è la parte principale del trattamento. Fiala, vitamina C. Come dicevo prima, la vitamina C sembra una cosa banalissima, una sostanza semplicissima. e invece è molto complessa, molto preziosa, nel senso che ha molte capacità, ristabilisce un po' quello che riguarda collagene, elastina, stimola la loro produzione, combatte anche le macchie cutanee, e fa tipo una disgregazione delle macchie, e poi ha questo potere sui radicali liberi, quindi previene l'invecchiamento cutaneo. Ah, bellissimo. Vengo domani. Trattamento più tre prodotti domiciliari, che sono la mousse, il detergente, la crema giorno e il siero notte. Il trattamento viene 55 e il kit 56, quindi il vantaggio è molto alto, e poi è giustissimo per questo periodo. Allora, questa è la crema finale, sempre la vitamina C, con questa si fa un assaggio ripitalizzante, e quindi in più a tutti i poteri principi attivi dei prodotti, come finale c'è un trattamento che c'è tutto dentro anche un po' di anti-age, e quindi in più a tutti i poteri che c'è un po' di più a tutti i poteri, è una delle parti che cede più velocemente, una delle prime che cede, è molto bello, a parte che è molto piacevole, ma se tu qua c'è quali sono? Si vede proprio che si alza il sopracciglio, uno è più alto dell'altro, dovremmo farlo tutti i giorni, si, puoi fare un cacao, e poi scarichi tutto, si, in entrambe le parti, poi scendi, il viso è una delle parti con più scarichi linfatici, si chiamano, sono delle stazioni dove tu vai a fare con il linfodrenaggio, gli scarichi che ti do con un apposito massaggio, però comunque anche con il massaggio anti-age si possono fare, perché si sono attivati, e sono appunto le tempie, vicino al, dove si fa il piercing, per me, ricordo come si chiama, e poi sotto al il logo. Poi tutte queste cose che ti dici, le seguo con attenzione quando vado a casa, che uso i tuoi prodotti, no? Passo un po' di tonico ancora, per risvegliare un po' più la pelle. E poi facciamo dei, si chiamano efflurage, che richiamano la microcircolazione in superficie, quindi va ad ossigenare un po' più la pelle. Ultimo passaggio, il solito idratante labbra, questo ha anche un potere di mantenimento dei filler. Ultimo passaggio, tieni gli occhi chiusi. Living essence, per farti mantenere questa sensazione di profondo benessere. Sono i tuoi prodotti domiciliari, e mi farai sapere come ti trovi. Certo, e farò un video prossimamente su come utilizzo i suoi prodotti durante la mia skin care routine. Bene, allora io ti saluto, spero che ti sia piaciuto. Sono molto contenta di averti visto, come sempre, di essermi trovata bene nel tuo centro. Ci vediamo presto. Ciao ragazzi e buona settimana. Grazie.